Bene, sono le undici e ventotto, direi che possiamo cominciare, possiamo aprire la seconda parte dei lavori di questa mattinata, transizione ambientale, mercato del lavoro è il titolo della sessione che ho il piacere di coordinare, per questo voglio ringraziare i colleghi dell'Università di Trento, in particolare il professor Riccardo Salomone, per avermi appunto invitato a coordinare questa sessione. Non voglio sottrarre tempo alle tre presentazioni e per questo non dirò nulla o pochissimo sul tema dello sviluppo sostenibile, di cui si parla d'altra parte ormai da più di trent'anni, dal 1987, anno del famoso rapporto a Brundtland. Anche se poi il diritto del lavoro si sta confrontando, come è stato ben scritto, con l'emergente paradigma sistemico dello sviluppo sostenibile da un minor numero di anni. E questo confronto, abbastanza recente, seppur recente, fra diritto del lavoro e sviluppo sostenibile, ha fatto sì che il dibattito più specifico sulla sostenibilità ambientale, che come sappiamo è una delle tre dimensioni della sostenibilità, sia ormai entrato a pieno titolo nel discorso sulle funzioni, sugli obiettivi del diritto del lavoro. E io penso, anche per riprendere il titolo della nostra sessione, che questa integrazione molto riguardi il diritto del mercato del lavoro, come sottosistema regolativo, appunto, interno al diritto del lavoro. Ora, prima di passare la parola agli autori delle tre ricerche, nell'ordine sentiremo Massimiliano De Falco, Sara Dotto e Sara Prosdocci, mi chiuderà poi la professoressa Ester Villa, direi che il titolo della sessione suggerisce alcune possibili prospettive di indagine che vorrei segnalare per avviare la discussione sul tema. La prima, ma dico subito che è una prospettiva di taglio prevalentemente economico, è quella dell'impatto della transizione ambientale sull'occupazione. Quindi si tratta un po' di rispondere alla domanda, lo sviluppo dell'economia verde determinerà più una crescita o una decrescita occupazionale? Ed è questa una prospettiva assunta già da diversi studi, rapporti, segnalo per esempio l'accurato rapporto del Centro Europeo per lo sviluppo della formazione professionale. Ma non solo questo, sono numerosi gli studi, rapporti che evidenziano l'impatto positivo della transizione ambientale sui livelli di occupazione, soprattutto in alcuni settori che dovrebbero beneficiarne, fra i quali per esempio il settore dell'energia per via dell'aumento o della domanda di energia rinnovabile, ma anche un altro settore in cui dovrebbe riscontrarsi questo impatto positivo, il settore edile delle costruzioni. Pensiamo a quanto la costruzione di edifici efficienti dal punto di vista energetico richiederà quanti nuovi lavoratori competenti, consapevoli di materiali e tecnologie ecosostenibili. E qui mi collego a quella che secondo me è la seconda prospettiva che come giuslavorista percepisco anche come più foriera di riflessioni, che è quella dell'impatto della transizione ambientale sulle politiche attive del lavoro. Se ne è parlato anche nel corso della precedente sessione, sulle politiche attive del lavoro da declinare soprattutto in termini di politiche formative. Se ne parlava anche a proposito della transizione digitale, ma anche, come sentiremo da una delle ricerche, anche in termini di politiche di inclusione rivolte a soggetti particolarmente fragili, vulnerabili. Torno un attimo però sulla formazione collegata appunto all'economia verde. Questa, come sappiamo, è una prospettiva ampiamente segnalata anche nel contesto europeo. Basti pensare all'Agenda Europea per le competenze, che intitola una delle sue dodici azioni proprio alle competenze che devono supportare l'economia, le transizioni, le due famose transizioni verde e digitale. Ed è una prospettiva segnalata anche dai più importanti, recenti documenti governativi che riguardano il mercato del lavoro, dal programma Goll al piano nazionale Nuove Competenze. In entrambi, per esempio, questi piani, questi programmi, si insiste molto su questo necessario passaggio delle politiche attive del lavoro da una logica alla quale si era abituati, insomma, sino ad oggi, di puro matching, da una logica di aggiornamento e di riqualificazione. Tanto è vero che aggiornamento e riqualificazione sono due dei cinque percorsi delineati dal programma Goll. Ecco, all'interno di questa seconda prospettiva di indagine, che quindi possiamo un po' così intitolare transizione ambientale e formazione, si può sviluppare poi una più specifica pista di ricerca che riguarda il ruolo dell'attore collettivo sindacale, quindi della contrattazione collettiva, nella definizione di percorsi di formazione collegati all'economia verde, alla transizione ambientale. Già molti contratti collettivi, a partire, per esempio, da quelli dell'energia e petrolio, chimico, farmaceutico, elettrici, prevedono questi moduli formativi specifici innanzitutto per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, perché collegano gli obiettivi di tutela della salute agli obiettivi di tutela dell'ambiente, ma sappiamo che l'intersezione fra diritto dell'ambiente e normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è un'intersezione più generale. E sullo sfondo c'è anche la rilettura dell'obbligo datoriale di sicurezza in chiave di sostenibilità ambientale. Quindi, dicevo, i contratti collettivi prevedono questi moduli formativi specifici innanzitutto per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ma poi anche per gli altri lavoratori, per una maggiore, soprattutto per quanto riguarda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per una maggiore comprensione delle strategie aziendali, in materia ambientale, dei cosiddetti investimenti sostenibili e anche, direi soprattutto, delle trasformazioni ecosostenibili dell'ambiente di lavoro. E poi anche gli accordi integrativi prevedono piani formativi che riguardano non solo i rappresentanti dei lavoratori, ma gli stessi lavoratori. Questa è la pista seguita da una delle tre ricerche che sentiremo in questa seconda sessione, la pista seguita dalla ricerca di Sara Prosdocimi. Un'altra, l'ultima prospettiva di indagine alla quale vorrei fare un cenno, prospettiva del tema generale della sessione transizione ambientale e mercato del lavoro, è quella che invece esplora le relazioni industriali a livello aziendale di tipo partecipativo, relazioni industriali collaborative, inclusive, guardando ad una serie di esperienze, per esempio alla costituzione di commissioni paritetiche sulla formazione, sull'ambiente e sulle produzioni sostenibili, ma non solo a questi organismi, anche ad altre esperienze, per esempio la costituzione di gruppi che spesso vengono denominati di miglioramento continuo e persino le esperienze, qui insomma è una prospettiva che un po' si collega a quella precedente della contrattazione collettiva integrativa, persino le esperienze di premi di risultato legati per esempio a obiettivi di risultato, di risparmio di efficienza energetica. In questo caso la sostenibilità ambientale entra nello scambio lavoro-retribuzione. E questa seconda, ultima, anzi terza prospettiva è un po' ed è vicina alla prospettiva della ricerca di Saradotto che si muove poi più in uno spazio che è quello della psicologia dell'organizzazione, però mi sembra che questa idea che lei porta avanti del job crafting si colleghi bene anche al tema un po' più tradizionale della partecipazione diretta, della innovazione organizzativa condivisa, stimolata dal basso, di cui ampiamente ci hanno parlato sociologi del lavoro come Anna Maria Ponsellini e Luciano Pero. La ricerca di Massimiliano De Falco al quale vi appresto a dare la parola, non volendo veramente rubare altro tempo, collega invece il tema dello sviluppo sostenibile dei green jobs a quello, lo facevo un cenno anche poco fa, dell'inclusione sociolavorativa di persone svantaggiate, in particolare dei disabili, rivisitando l'istituto delle convenzioni quadro su base territoriale previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 276 del 2003. Correttamente questa ricerca parte fra l'altro dalla constatazione che interventi specifici a favore di questa particolare categoria di soggetti svantaggiati, cioè i disabili, sono programmati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che come sappiamo dedica la quinta missione proprio all'inclusione, alla coesione, poi parlando proprio di politiche attive per il lavoro. Pertanto do la parola al dottor Massimiliano De Falco dell'Università di Udine per l'illustrazione della sua ricerca. raccomandandogli di contenere la presentazione nei 15-20 minuti al massimo. Prego. Grazie professoressa. Buongiorno a tutte e a tutti. Anzitutto vorrei ringraziare il professor Salomone e la dottoressa Cristopolini per aver accolto la mia candidatura e avermi concesso di partecipare a questo importante convegno che certamente offre un'occasione di confronto e di apprendimento su questioni di estrema attualità. Il tema che ho deciso di affrontare, come anticipava la professoressa Alaimo, è quello dell'inclusione sociale delle persone con disabilità. indagando in particolare pregi e limiti dello strumento convenzionale previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 276 del 2003 che specie sul territorio friulano dal quale io provengo risulta ancora poco conosciuto, incentivato e di conseguenza utilizzato. Ritengo che ragionare sull'inclusione sociale dei... chiedo scusa, necessiterai di assistenza solo per mandare... ok, ce l'abbiamo fatto. Grazie. Come dicevo, ritengo che ragionare sull'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati nell'ambito di un più ampio dibattito dedicato alla transizione verde, alla transizione digitale, sia imprescindibile per accogliere un cambiamento giusto verso una società più equa e sostenibile. Del resto, come già suggeriva, sia pur in termini provocatori, la celebre frase attribuita al sindacalista brasiliano Schicko-Mendez, considerare le questioni ambientali avulse da quelle sociali rischia di appiattire la riflessione e di omettere la centralità delle persone nei processi di cambiamento. Del pari, ritrovo una simile impostazione anche all'interno della nuova formulazione dell'articolo 41 della Carta Costituzionale, laddove si antepone alla libertà di iniziativa economica e privata non solo l'ambiente ma anche la salute dei singoli e dell'intera collettività. Non si può quindi discutere solo di ambiente ma è doveroso, come sottolineato anche dalla stessa professoressa a Laimo e già prima dalla professoressa Ciuciovino, occorre riflettere e concentrarsi sulle persone all'interno dell'ambiente e per il giusto cambiamento proprio su quelle persone che incolpevolmente si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà. In questa direzione è il concetto stesso di sostenibilità a potersi ben tradurre nell'inclusione sociolavorativa dei soggetti svantaggiati dove la tutela muove dalla protezione dell'ambiente in senso stretto verso la protezione della salute e del benessere individuale e collettivo nei contesti di impiego. E in dubbio poi come le persone con disabilità siano le più vulnerabili, le più fragili del mercato del lavoro e come su di esse la contingenza pandemica si sia abbattuta con estrema violenza contribuendone a rallentare o addirittura arrestare il già complicato accesso a una occupazione dignitosa. In particolare la mia proposta di ricerca ambisce a comprendere se, come, con quali vantaggi e quali criticità si possa estendere all'inclusione delle persone con disabilità la logica sottesa ai progetti di carbon offsetting. Ossia a quelle procedure che consentono all'impresa di diventare neutre in carbonio compensando le proprie emissioni grazie a investimenti in progetti per la protezione e conservazione dell'ambiente progetti che appunto assorbono o evitano le emissioni nocive di altri. a titolo esemplificativo si pensi a una grande acciaieria dove l'idea di azzerare completamente le emissioni provocate dagli altiforni è sicuramente una prospettiva poco realistica. Ebbene, grazie a questo meccanismo la stessa acciaieria potrà compensare le proprie emissioni residue cioè quelle che non riesce a neutralizzare internamente acquistando crediti in carbonio da progetti certificati dove un credito corrisponde a una tonnellata di CO2 assorbita dal progetto e potendo quindi questa nostra acciaieria contribuire attivamente alla sostenibilità globale. Sicché mi sono chiesto se fosse possibile immaginare un meccanismo analogo per compensare le mancanze di quelle imprese che oppongono all'inclusione l'asserita impossibilità di collocare utilmente la persona con disabilità all'interno della propria organizzazione. L'obiettivo vuole dunque essere quello di rendere effettivo il diritto al lavoro dei disabili che a oltre vent'anni dalla legge sul collocamento mirato e dalla quasi coeva direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro resta ancora purtroppo un traguardo lontano dall'essere raggiunto. La questione pare assai rilevante specie di fronte ai numeri della disabilità su cui mi soffermerò a breve. Per eliminare però una ricognizione quantitativa è aver ben chiaro che cosa si intenda oggi con disabilità. Permettendomi di rinviare allo scritto per quanto concerne il cambio di paradigma intervenuto col passaggio dal modello medico al modello biopsicosociale fatto proprio anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione mi limiterei qui a sottolineare come tale caratteristica personale non possa essere più considerata quale sinonimo di menomazione ma come occorra prendere in considerazione l'influenza dell'ambiente circostante e degli ostacoli che vi presenti. La disabilità oggi non possiede quindi più carattere medico bensì di tipo relazionale e considera cioè i processi di esclusione determinati dall'interazione e dal rapporto tra le menomazioni fisiche psichiche o sensoriali della persona e le barriere di diversa natura presenti nell'ambiente circostante e che ostano alla piena partecipazione in tutti gli ambiti della vita quotidiana su base di uguaglianza con gli altri vedendo i numeri la più recente reportistica nazionale restituisce la consapevolezza di come le persone con disabilità in Italia rappresentino una fetta assai rilevante della popolazione considerando l'insieme di persone con limitazioni funzionali gravi lievi e con malattie croniche si tratta di un universo di oltre 13 milioni di persone pari a più del 21% della popolazione residente di queste attualmente occupato solo il 36% sovente con contratti a termine e con forme di flessibilità oraria tra le quali in primis il part time certamente idonee a rispondere alle esigenze di cura e di assistenza della persona ma non sempre così desiderate della restante parte ossia con riferimento a quel 64% di inoccupati solamente il 21% di essi cerca un impiego mentre addirittura il 43% risulta inattivo di fronte all'evidenza statistica occorre allora superare le resistenze culturali che si incontrano nelle imprese laddove in ragione dello stigma che li accompagna i disabili sono spesso considerati lavoratori di serie B a causa di una presunta ridotta produttività che li condanna nei pochi casi in cui questi siano impiegati in mansioni di secondaria importanza con bassi livelli salariali e condizioni di lavoro precario come anticipava già la professore Salaimo negli ultimi mesi però sono stati registrati alcuni timidi segnali incoraggianti che lasciano sperare in una inversione di tendenza rispetto al quadro poc'anzi illustrato tra questi mi limito a richiamare il piano nazionale di ripresa e resilienza che riconosce la disabilità quale priorità trasversale con l'intento di uniformare l'ordinamento ai principi antidiscriminatori sanciti a livello europeo a livello sovranazionale del pari le recentissime linee guida in materia di collocamento mirato confermano la volontà di valutare attentamente l'impatto delle misure predisposte interpretando il lavoro non solo in termini di equità ma anche di crescita economica a tanto si aggiunga poi il recente inasprimento dell'apparato sanzionatorio previsto per la mancata copertura della quota di riserva di cui sono gravati tutti i datori di lavoro a raggiungimento di una determinata soglia occupazionale premesso che qualora il datore non adempia l'obbligo assuntivo l'articolo 15 della legge 68 del 99 statuisce l'irrogazione di sanzioni amministrative per ogni giornata di mancato impiego fissandole l'ammontare a 5 volte l'esenzione contributiva individuata dall'articolo 5 della stessa legge con il recente adeguamento dell'esonero si è provveduto a innalzare di riflesso a circa 196 euro giornalieri la sanzione per ogni mancata assunzione cifra che se moltiplicata per 260 giorni nell'anno raggiunge quota 51 mila euro annui per ciascuna unità di personale disabile sicuramente questi provvedimenti sono da salutare con favore ma come si è già avuto modo di osservare il sistema risente tutt'oggi di una tendenziale reticenza che non consente ancora di vincere l'eterna sfida delle differenze e di accettare la diversità quale risorsa capace di generare valore a questo punto mi sono chiesto quale strumento riesca meglio di altri a soddisfare le esigenze di imprese e lavoratori e ho trovato risposta in quanto già previsto sin dal 2003 nell'articolo 14 del decreto di attuazione della cosiddetta riforma viace articolo 14 che individua una particolare forma di collaborazione idonea a stimolare processi di partnership tra imprese profit e non profit del territorio nonché e aspetto questo a mio avviso più importante di contribuire all'inclusione socio-lavorativa di coloro che spesso rischiano di rimanere esclusi dal mercato del lavoro infatti attraverso la stipula di apposite convenzioni quadro su base territoriale si prevede una particolare procedura di distacco in cui le cooperative sociali o meglio in cui la persona svantaggiata è assunta dalla cooperativa sociale di tipo B in luogo dell'impresa onerata e l'impresa onerata in contropartita assegna la cooperativa medesima commesse di lavoro proporzionate al costo del personale IV inserito per tutta la durata dell'appare già dalla rubrica cooperative sociali oggi anche imprese sociali e inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati si evince come l'articolo 14 intenda rivolgersi a una platea di destinatari più ampia rispetto a quella prevista dall'articolo 1,1 legge 68 del 99 con l'intento quantomeno in astratto di recepire le istanze avanzate nell'ambito della definizione del modello biopsicosociale della disabilità tuttavia in concreto in mancanza di un obbligo espressamente previsto in generale per i lavoratori svantaggiati questi potrebbero essere assunti solo se la loro assunzione fosse incentivata magari ad opera delle regioni per quanto concerne invece le persone con disabilità con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo l'integrazione lavorativa presso la cooperativa sociale si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva in ogni caso l'idea di fondo è quella di determinare ulteriori canali alternativi rispetto all'assunzione diretta per realizzare l'inclusione se evidenti risultano i vantaggi per le imprese gravate dell'obbligo assuntivo in questo modo potrebbero adempiervi regolarmente risparmiando i maggiori oneri connessi al reclutamento diretto o al pagamento della sanzione nonché altrettanto evidenti sono i vantaggi per la cooperazione sociale che potrebbe così emanciparsi da una visione puramente assistenzialista generando prosperità economica e reinvestimento sociale ancor più e ancor meglio sono i vantaggi per le persone con disabilità indotte a recuperare soddisfazione professionalità e dignità attraverso il lavoro in un contesto vigilato dalla pubblica amministrazione pertanto non ritengo condivisibili gli allarmismi di coloro che ravvisavano nell'istituto una attitudine ghettizzante ma all'opposto ritengo che incorporando uno spirito mutualistico e solidaristico le cooperative sociali rappresentino ambienti e contesti organizzativi sensibili e attenti alle esigenze della persona capaci di valorizzarla anche sul versante normativo in qualità di socio lavoratore rispetto a quanto si inquidetto il mio caso studio è rappresentato dalla cooperativa sociale udinese arte e libro onlus che ha percorso una via che la condotta da soggetto marginale del mercato del lavoro locale a attore principale nelle relazioni tra persone con disabilità servizi pubblici e imprese del territorio ritengo che la condivisione di questa esperienza sia importante in quanto a mio avviso idonea a tradurre il valore della commessa di lavoro nel più ampio valore della persona che lavora in questo contesto però mi sono anche reso conto di quante imprese allo Stato non assumano persone con disabilità né tantomeno ricorrano allo strumento convenzionale di cui è l'articolo 14 sostenendo l'impossibilità da un lato di poterle impiegare proficuamente all'interno della propria organizzazione ovvero dall'altro lato di poter affidare alla cooperazione sociale commesse realmente utili alla propria attività di impresa ci troviamo nuovamente nell'esempio della grande acciaieria per cui assumere una quota di lavoratori disabili pari al 7% degli occupati e di inserirla nel posto adatto come espressamente richiesto dalla legge sul collocamento mirato potrebbe risultare assai difficoltoso così come potrebbe risultare assai difficoltoso individuare una cooperativa sociale del territorio a cui affidare commesse di lavoro realmente utili per il proprio ciclo produttivo ma posto che l'integrazione socio-lavorativa non sia caritatevole offerta ma vero e proprio obbligo giuridico l'acciaieria dovrà entro il 31 gennaio di ogni anno predisporre e inviare il prospetto informativo sulla propria situazione rispetto ai lavoratori disabili e in caso di mancata trasmissione o in caso di mancata assunzione questa sarà passibile di sanzione sanzione oggi più che mai molto gravosa ma come noto e al pari di ogni cartella di pagamento di incerta e dubbia riscossione partendo però dal presupposto che i prospetti informativi sono pubblici sarebbe possibile conoscere il fabbisogno complessivo delle imprese di una determinata area sì da poter ragionare in un'ottica compensativa territoriale in questi termini ho immaginato una sorta di metafora ecologica dove grazie alla forza propulsiva contenuta nell'articolo 14 la compensazione possa essere declinata in termini di inclusione e dove cioè le imprese scusi dottor la devo invitare a sintetizzare l'ultima parte sintetizzo allora le conclusioni ho già superato i 20 minuti chiedo scusa e dove le imprese che possono affidare alla cooperazione sociale parte del processo produttivo distacchino una quota di laboratori superiore a quella loro richiesta dalla legge di modo da compensare le scoperture residue di quelle imprese che trovano maggiori difficoltà a ricorrere allo strumento convenzionale venendo alle conclusioni ritengo che il mezzo per dare forma e sostanza a quanto proposto sia il contratto di rete e non solo come autorevolmente suggerito dal maestro professor Carlo Borzaga tra imprese cooperative ma proprio tra le imprese onerate dell'obbligo assuntivo si tratta a questo punto di comprendere solo quale possa essere il vantaggio economico o fiscale da riconoscere alle imprese che assumono in compensazione per le altre perché il vantaggio per la intera collettività è per converso già del tutto evidente mi scuso ancora per aver esporato i tempi e vi ringrazio molto per l'attenzione grazie al dottor De Falco mi scuso io per diciamo richiamare per queste emozioni d'ordine però siamo già nella seconda parte della mattinata e quindi mi è stato raccomandato il mantenimento degli spazi dei tempi dico solo che molto apprezzato questa idea nella relazione di De Falco della centralità della persona della persona disabile in particolare i dati statistici che lui ha riferito sono molto allarmanti ma stimolano sicuramente all'assunzione della prospettiva che lui suggerisce mi è molto piaciuta anche questa idea che il soddisfacimento del diritto al lavoro del soggetto della persona disabile possa legarsi non più solo a un rapporto privilegiato ed esclusivo fra il cittadino lo stato le regioni e le strutture pubbliche i servizi preposti proprio al soddisfacimento del diritto al lavoro del disabile ma possa essere appunto affidato all'azione coordinata di soggetti pubblici e di soggetti privati quindi secondo questo modello virtuoso di cooperazione pubblico privato che è quello dell'articolo 14 delle convenzioni quadroterritoriali detto questo passo la parola alla dottoressa Saradotto dottoranda dell'università di Parigi 1 o Pantheon Sorbonne che ci parlerà di job crafting e di occupabilità sostenibile prego grazie mille per la parola cercherò di tenere il mio intervento nei tempi di poterritoriali di poterritoriali di poterritoriali lavoratori throughout their working life. As we know, sustainability has three pillars, three main dimensions, which are environmental, economic, and social sustainability. This latter, the social sustainability, is the least of the aspect that is of utter importance for business organizations, because as we know, the overall sustainability of businesses can be reached only focusing on the people that actually build the organizations and lead them to make the environmental and economic sustainability available and possible as well. Organizations, in fact, are managed according to what is called the triple bottom line, that is, they are asked to report for profit, people, and planet in their management. So in this presentation, I wanted to discuss with you a small literature review where I'm going to present you two models, the theoretical models that come from the branch of work and organizational psychology, that are the job demand resource model and the sustainable employability models. Thanks to these frameworks, we are able to analyze how even low-skilled workers, we can achieve a sustainable employability by the management of their own work. We're going to discuss then the methodology and the preliminary findings of this study that has been conducted. I mean, the analysis is still ongoing, but has been conducted starting from last year. So first, the job demand resource model. Basically, this is a model that combines the literature on job stress and motivation. The idea comes from two scholars in the Netherlands who have classified every job characteristic, so the features of the job in job demands and job resources. I have reported here the definition. So job demands are those characteristics of the job that cause a sort of effort strain. They are associated sometimes, but they are associated with cost, and they're not necessarily negative, but they can challenge individuals. They can lead them to better performances, although they can cause some hindrance, much strain, when the employee doesn't have the possibility to recover from this type of work. Job resources, on the other hand, are those aspects that are functional in achieving work roles that can allow to reduce the costs that come from job demands and then that can stimulate people to achieve their personal goals or can achieve personal learning and development. In this theory, we can see two processes that are triggered. A health impairment process that comes when there is an imbalance between job demands and job resources and there is an excess in job demands with respect to resources. So people don't have the possibility to recover from stress and this in the long term can lead to burnout. On the other hand, we can have a motivational process that is when there is a good balance between job demands and job resources. People have the sufficient amount of resources in their job to be engaged, to experience well-being and to have better performance. So we can also see, as a consequence, the organizational commitment, so detachment of the individual to the organization that increases. This model is a dynamic one. So job demands and job resources influence each other and there is a virtuous or a vicious cycle that are implemented. In general, when we deal with job design, we try to, let's say, combine job demands and job resources so that we can want to increase our motivation and to reduce people's stress. However, these jobs can be not so well designed so that people are confused. they try to modify their job in an autonomous way in a bottom-up process. That is, they renegotiate their tasks, they rechange a little bit their job content, they assign different meanings to tasks and jobs. And this is a process that is called job crafting, which is quite a recent trick that has come up 20 years ago. It is a sort of proactive behavior, as I said, consisting of adjustments people make to make their jobs look better to themselves. We can see three types of job crafting. So we can have a task crafting when we modify our tasks, relational crafting and connecting crafting, sorry, when we modify the relationships we have, for example, with the colleagues or customers or we change the way we think about our work. In the job demand resource theory, what we have seen so far, we can see that job crafting takes place by regulating the job demands and job resources we can have in our work. So we try to increase, for example, our resources by doing better the tasks we prefer or we avoid negative tasks that are the most straining ones. At the same time, we try to increase our social resources by spending more time with the colleagues we'd like to interact with or by avoiding, for example, toxic people at work. We can see people engaging job crafting for various reasons. They want to, I mean, to avoid the negative consequences such as alienation at work or to increase their positive sense of self. Also, they want to create better conditions to work healthily and to be more motivated. We can see a positive effect of job crafting both at the individual and at the organizational level. Respectively, we can see an increase in well-being, satisfaction, engagement in what is called persons of faith in employability as well. And at the organizational level in terms of organizational commitments and an attachment to the organization and in general in an overall better performance of the organization. So I have the expression of the model, but we can go directly to explaining the second important framework we want to deal with. It is the one of employability because if the job demand resource models describes individual strategies as people set up in order to find well-being and reduce the stress on a daily basis, we have to think about career in the long term. So sustainability as this peculiarity that is related to the long-term horizon and employability exactly this. So we want to, employability is defined in the literature as the possibility for an employee, for a person to find a job throughout their whole working life, making the best use of one can of their competencies. There is a, I mean, a huge amount of literature on employability, but the problem we want to focus on here today is about how to remain employable throughout the whole working life of many people. There are two main views about this. We can see one that emphasizes the individual responsibility. So the importance is given to the proactivity to the personal initiative to keep developing the wrong competencies. On the other hand, which is a part of the literature that is rising, there is an accent. The accent is put on the shared responsibility within the organization and the individual. There is the need for organizational support in terms of increasing competencies in maintaining the individual's health and employability, health, and well-being. And this is why a model has recently been defined that is the one of sustainable employability. This is a multidimensional construct that leads to the maintain of employability and the personal and professional realization of the individual at the same time, bringing together the dimension of health, satisfaction, and well-being and the possibility to make meaningful contribution to one's work. For this, the employees should have the capabilities. They need to be put in the conditions to realize their potential, and this can be done only through the organization so that there is a collaboration and participation with individual and organization. The main features of sustainable employability model, as I have said, is to create a healthy condition that favor well-being to maintain people productive throughout their working life and in a long-term perspective. This framework is, however, ideal. It's not realized yet, especially when we think about low-skilled workers whose jobs are mainly repetitive and they face many risks among which there is the obsolescence of competence is the problem of updating the skills and maybe these kinds of people do not have the initiative to proactivity that is required sometimes in order to engage themselves in learning and development activities or in finding the good training that is required to them. Also, they may not be able to forecast how their work is going to evolve in the long-term and they need as well to maintain their health their physical health because sometimes these work are typically they involve their physical activity and they need to thrive in the long-term with these difficulties. So this is why we have asked these questions how can we face how can low-skilled workers face and cope with this risk of losing their employability and how can they cope with the risk of validation on a daily basis and for this we wanted to put together these two theoretical frameworks to understand how can job crafting cope with these risks and how can we thanks to the support of an organization would reach sustainable employability even for low-skilled workers. For this our study set was located the study was conducted in a case study approach we started some type of participant observation so that for two weeks in two different periods of the year in a calm period even more stressful one we have worked together with the employees discussing with them having interviews with logistic managers the HR manager and other informal discussions and we were among the warehouse workers of a manufacturing firm that is located in northwest area of Derry San Francisco we have some preliminary findings that come from our analysis where we can find the effectiveness of job crafting so that people actually engage in job crafting activities and they try to use this to cope with the boredom experience at work with the risk of alienation they can have from repetitive tasks basically they're doing the same things over and over and for example they try to reduce the job demands by slowing down the pace when they're tired or they try to avoid the most training task or they ask for help from colleagues at the same time they try to increase their job resources so they improve their processes by for example signaling and facilitating the job of their colleagues helping them to counter the disease for example and increasing their social ties and increasing the types of behavior that are intended to help others and this type of social behaviors which is a country to farming tend to increase when stress increases so when we observe the most stressful part of the year when they have increased their pace of work people tend to engage more in this type of social behavior which is a sort of altruistic behavior when people tend to help each other without the other the counterpart asking for it we see that people engage in a collective form of job practice so all together they modify their job and their higher level of mutual help this is quite counterintuitive because when people are in a stressful situation what they tend to do is to increase the risk of interpersonal conflict in this case what we see is an increase on the team cohesiveness and the willingness to collaborate with each other so there is a new field a new direction for research that can be started from this one secondly another important finding that we can have is the importance of the organizational time people feel better in this organization and feel better than in other organizations they have worked in or they I mean from what they hear as well happening in other organizations here in this particular firm salaries may be lower than elsewhere but what we can find is that conditional better and this it makes the job more attractive for employees so we see people how people do not value only money at work but they value as well the social dimensions and these and the context that vary for example individual contribution in improvement of processes is valued for example when people modify their job so they craft their job and they improve their processes thanks to this modification sometimes these innovations are implemented and become the new standard for processes so we can see how an organization becomes inclusive and allows improvement thanks to the job crafting even of low skilled workers and of workers that are not supposed to decide about their job normally and we can see then how a good organizational climate is fundamental in the development of the individual as for the contribution that as I already said are quite preliminary but we can see the necessity to work on the organizational support to allow low-skilled workers to achieve their well-being and long-term health and how it is necessary to make employers more aware of the responsibility they have towards the wrong worker the wrong employee and about their needs in thanks to this work we hope to contribute to the literature of job crafting and the same time of sustainable employability in order to see how effective this is to cope with stress to innovation processes and increase the tie among people and the social ties and increase as well for social behaviors in high stress condition it is an area to explore but that we think can lead to good contribution and I conclude here thank you very much for your attention thank you dottoressa saradotto also for their respect on the time it must be very interesting your darauf of with sustainability are as well as well 所以 双 and individual come vizioni chiave the della sustainability and E poi anche questa idea del job crafting, cioè di comportamenti proattivi, di iniziative, di azioni intraprese dagli stessi individui lavoratori per modificare il proprio lavoro dal basso verso l'alto, attraverso aggiustamenti per renderlo più adatto a se stessi. Questa idea quindi della costruzione e riprogettazione del proprio lavoro da parte degli individui, che si presenta però più critica per i lavoratori di più bassa qualificazione. Come dicevo mi pare che si possa collegare in qualche modo anche al tema della partecipazione diretta, dell'innovazione organizzativa stimolata dal basso. Non aggiungo altro e passo la parola alla invece dottoressa Sara Prosdoscimi, la quale ci parlerà di transizione ecologica nei settori energetico petrolifero e chimico farmaceutico. Sara Prosdoscimi dell'associazione ADAPT. Prego. Buongiorno a tutti, procederei intanto a condividere le mie slide. Spero le possiate vedere intanto. Sì, sì. Ho l'opportunità di ricevere spunti di approfondimento per la mia ricerca. Innanzitutto vorrei spiegare quello che è il mio scopo di oggi, ovvero lo scopo di andare ad indagare il ruolo delle relazioni industriali nella transizione ecologica dei settori chimico farmaceutico ed energetico petrolifero, al fine di poter riflettere sul controverso tema della transizione ecologica e sul ruolo delle relazioni industriali che vede nel lavoro e nei processi produttivi di questi settori centrali uno snodo decisivo ed ancora problematico in termini di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Il mio intervento dunque, partendo da una breve analisi sull'origine e sullo sviluppo delle relazioni industriali e la questione ambientale, vuole poi riflettere su come ora il tema della transizione svidi il modello classico di relazioni industriali per aprire a nuove prospettive. Quando infatti nel 1993 la European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions pubblicò la prima ricerca sul tema relazioni ambientali, relazioni industriali e ambiente, l'area di collaborazione fra le parti sociali in tema era particolarmente ristretta. Questo rapporto del 1993, ma che in realtà si rifà ai primi anni 60, sottolinea come l'impatto ambientale, almeno all'origine, fosse studiato ed approcciato solo in termini di salute e sicurezza dei lavoratori e non in termini di esternalità sul territorio e sulle comunità delle realtà produttive. Perché voglio partire però da questa ricerca? La ricerca evidenzia un assunto fondamentale dal quale vorrei ripartire per proporre delle riflessioni, ovvero come datori di lavoro e lavoratori potessero promuovere e contribuire alla protezione dell'ambiente, portando le questioni ambientali, in questo caso ancora interne al perimetro dell'azienda, all'ordine del giorno delle relazioni industriali. Un altro punto che sottolinea questa ricerca e secondo me molto interessante è come settori al centro della tematica della discussione delle relazioni industriali e della tematica ambientale fossero sin dall'origine il settore chimico-farmaceutico ed il settore all'origine petrochimico. Un esempio, all'inizio degli anni 60 questi accordi relativi appunto alla questione ambientale e relazioni industriali si stabilirono principalmente in stabilimenti chimici e farmaceutici come lo stabilimento farmaceutico Farmitalia e l'impianto chimico Soluway, proprio per determinare la sicurezza per i lavoratori chimici e rendere quindi i processi produttivi chiusi e sicuri per i lavoratori che ci lavoravano all'interno. Protezione e attenzione all'ambiente così come noi la decliniamo oggi non erano una priorità ovvero in termini di esternalità verso territorio, comunità e ovvero anche in termini di occupazione come ricordato anche dalla professoressa Alaimo all'inizio dell'intervento. È in dubbio quindi come nell'ultimo decennio la transizione ecologica dell'economia si è invece entrata a pieno titolo nell'agenda delle politiche da un lato comunitarie, internazionali e poi nazionali e dall'altro anche nell'agenda delle relazioni industriali. Perché continuo quindi ad interessarmi in particolare di questi due settori? L'uno energetico petrolifero perché la quantità e qualità delle fonti disponibili nonché la tecnologia utilizzata influiscono sull'entità e sullo sviluppo dell'impatto ambientale e anche in termini ovviamente di occupazione e dall'altro perché il settore chimico farmaceutico rimane uno dei settori più altamente impattanti in termini di salute e sicurezza dei lavoratori e ovviamente definito anche dalla dottrina come uno dei settori hard to abate. Ecco che quindi voglio andarmi ad interessare come le parti sociali e non solo la politica si interessa di come intervenire in termini di transizione ecologica ma anche transizione giusta e quindi quali strumenti siano già stati posti in essere ma quali prospettive ci siano in termini di relazioni industriali. Il quadro italiano quindi si presenta come un quadro di relazioni industriali dove i due settori oggetti della ricerca si presentano come un canale di integrazione e convergenza sui temi di sostenibilità ambientale e sostenibilità in tema di lavoro. Un primo argomento sul quale ci possiamo andare ad interrogare è come la contrattazione collettiva quindi declini queste tematiche. La contrattazione collettiva quindi del settore chimico farmaceutico sul quale vorrei soffermarmi davvero brevemente per poi andare a presentare piuttosto le riflessioni e le prospettive presenta il tema ambientale principalmente in ottica di sempre maggiore dialogo e collaborazione fra le parti dove quindi si declina il tema ambientale principalmente in tema di osservatori osservatorio quindi nazionale poi declinato anche in ambito di siti produttivi veri e propri quindi l'intero sistema degli osservatori costituiti poi in apposite sezioni una delle quattro totali dedicata interamente all'analisi dei temi di salute sicurezza ed ambiente osservatori che sono organismi non negoziali ma concepiti come luogo di informazione e consultazione delle parti ed ancora oltre al sistema degli osservatori degli organismi bilaterali contrattuali per la formazione formazione che come ricordava ancora una volta la professoressa alaimo diventa proprio driver per la trasformazione e la transizione non solamente del sistema produttivo ma anche per la transizione del lavoratore in questi nuovi cicli produttivi e ovviamente organismo bilaterale contrattuale per la formazione che si declina ancora una volta anche a livello territoriale sui temi di salute sicurezza e tutela dell'ambiente e la piattaforma per il rinnovo si pone nuovamente in questa prospettiva di collaborazione fra le parti sociali non solamente a livello nazionale ma anche a livello aziendale si ritrovano queste prospettive prospettate per l'appunto a livello nazionale due sono gli esempi che ho riportato un gruppo davvero grande che poi si riporta i propri esempi non solamente in Italia ma anche all'estero e l'accordo Air Liquide del quale appunto lascio i risultati poi allo scritto passando poi alla contrattazione invece collettiva del settore energetico petrolifero che si pone nella stessa prospettiva che ho appena presentato invece per la contrattazione collettiva del del settore chimico farmaceutico nuovamente ancora una volta troviamo come nel settore energetico petrolifero il sistema interno di coinvolgimento si sviluppi tramite rapporti e confronti bilaterali l'utilizzo di apposite piattaforme consultive informative decisionali ancora una volta tramite il sistema degli osservatori che propone un'analisi mirata alla verifica il confronto nazionale delle parti specificatamente sul tema della transizione energetica sugli assetti occupazionali ancora una volta quindi ponendo l'attenzione sulla transizione occupazionale del mercato del lavoro sul tema della salute sicurezza ambientale in un meccanismo di dialogo e confronto continuo tra le parti sociali e nuovamente in una commissione nazionale paritetica per la formazione un esempio ancora una volta a livello invece aziendale è il protocollo insieme ENI nel quale le parti condividono di sottoscrivere la reciproca volontà di avviare un percorso che si svilupperà in tutti i livelli di contrattazione quindi riportando quello che è il sistema nazionale ancora una volta a livello di contrattazione aziendale svolta quindi veramente una visione di insieme di quella che è la contrattazione nazionale e poi degli esempi di buone pratiche che possiamo rivedere a livello aziendale le direttive che possiamo trarre da questa prima lettura possiamo notare come i modelli di relazioni industriali adottati in tema di transizione ecologica nell'ambito dei due settori oggetto di ricerca approfondimento è indubbiamente questi modelli ricadano sotto i modelli di relazioni industriali partecipativi e dialogati ovvero improntati su dialogo continuo focalizzati sull'analisi, la discussione e il confronto fra le parti sociali e finalizzati alla ricerca di soluzioni condivise fra le parti sociali stesse se il sistema è dunque sotteso a partire dalla condivisione dei valori fino all'impegno reciproco a raggiungere determinati obiettivi in una costante ottica di attenzione ai lavoratori e in una perenne dicotomia e dialogo tra quelli che sono in realtà interessi almeno all'origine contrapposti di azienda e lavoratori nella specifica attenzione al tema ambientale si nota come la tendenza negoziale delle parti sociali nel recepire la responsabilità di dover interpretare e declinare il tema della just transition quindi non solo della green ma della giusta transizione abbia poi di fatto agito in quelle che sono tre direttive, tre dimensioni la prima, la sperimentazione e l'incremento di esperienze multiple di bilateralità la seconda, il riconoscimento di una necessità sempre maggiore di un approccio locale e la terza, nel riconoscimento della necessità di un approccio sempre più multi-stakeholder quindi non solamente esperienze bilaterali ma sempre più un'analisi, un'informativa, una consultazione di più soggetti, più attori la prima, quindi l'esperienza di bilateralità si può notare come la contrattazione collettiva e dunque le relazioni industriali si sviluppino innanzitutto nella promozione di forme di anticipazione delle letture delle esigenze e dunque come l'osservazione del mercato del lavoro costituisca uno dei filoni di intervento affidato dalla contrattazione collettiva alle esperienze bilaterali sul tema della transizione ecologica il fatto di poter contare su osservatori di settore non è espressione di funzione di politica attiva la funzione che richiamava anche la professoressa Alaimo all'inizio di questa sessione ma è un fattore propedeutico ed essenziale per la lettura delle criticità dei fabbisogni che nascono in virtù della riconversione dei siti produttivi e di queste nuove competenze e professionalità delle cosiddette competenze green delle quali sentiamo spesso e sempre parlare richieste in capo ai lavoratori in queste rimodernate catene di valore questo elemento quindi di osservazione dei mercati del valore è originario precedente e propedeutico alla nascita e allo sviluppo di vere e proprie attività di formazione e poi di interventi concreti di politica attiva ovvero di altri interventi che le parti sociali possono e devono intraprendere guardando i settori oggetto di studio si nota come nel settore chimico l'osservatorio aziendale istituito nello scorso rinnovo possa essere uno strumento di consolidamento non solamente dell'obiettivo del modello di relazioni industriali partecipativo e dialogato ma possa se effettivamente messo in atto così come se ne sono verificate le funzioni anche attraverso gli osservatori in transizione possa essere driver per conoscere le reali esigenze dei siti produttivi l'osservatorio poi in stretto dialogo con l'organismo bilaterale per la formazione può essere il punto di emersione delle necessità in termini di organizzazione e formazione del lavoratore ugualmente l'osservatorio aziendale previsto in ambito di ccnl energia petrolio che meglio delineando l'ambito di analisi della transizione ecologica può facilitare e accompagnare i cambiamenti dettati dalla transizione ecologica del settore stesso accanto dunque a questo primo compito di osservazione si affiancano poi le necessarie politiche di intervento diretto e quindi le politiche le politiche attive attuate attraverso questi stessi sistemi dialogati e partecipativi delle parti sociali attraverso quindi nuovamente enti bilaterali per la formazione la collaborazione che viene richiamata un'altra volta la bilateralità quindi intesa in senso ampio risulta efficace strumento di intervento sul mercato di lavoro se utilizzato ovviamente in modo concreto e continuo non solamente durante il rinnovo contrattuale ma nelle more diciamo del del contratto collettivo e questo profilo di ruolo prioritario privilegio della contrattazione bisogna guardarlo anche in virtù del privilegio della contrattazione rispetto alla legge le esperienze bilaterali infatti nascono da rapporti dove le parti si pongono non in un rapporto di contrasto ma in incontrapposizione degli interessi ma in una dimensione di collaborazione è infatti la stessa autonomia collettiva delle parti che rafforza progressivamente la struttura la fonte il perimetro d'azione il ruolo e le prestazioni e le parti sociali proprio perché inserite nei mercati del lavoro nelle dimensioni industriali guardando ai fabbisogni di riconversione produttiva di competenze di professionalità e guardando alle specificità dei territori in cui siti produttivi sono inseriti possono quindi meglio delineare i fattori caratterizzanti la bilateralità nuovamente quindi mi ricollego a questo punto guardando alla seconda necessità ovvero la dimensione locale di analisi ed intervento ovvero la bilateralità e la contrattazione e mi avvio al termine del mio intervento con queste prospettive di sviluppo ci permettono anche di fare delle breve prospettive sul perimetro d'azione sul territorio quindi non solamente sul perimetro d'azione di collaborazione delle parti sociali il valore positivo dell'operato degli osservatori è collegato anche a notevoli fattori che possono essere riassunti ora in carenza di tipo conoscitivo sul mercato del lavoro e alle specifiche caratteristiche dello stesso e le peculiarità territoriali dei siti produttivi quindi peculiarità che opportuno che la contrattazione indirizzi sul quale opportuno che la contrattazione indirizzi ed incentivi esperienze di dialogo e contrattazione sulle stesse proprio per definire geograficamente le tipologie di intervento potendo contare su analisi rapide puntuali e mirate dunque a partire dall'esperienza dell'osservatore si può affermare come questa esperienza di collaborazione bilateralità di fatto poi sostenga e orienti la contrattazione collettiva possibili obiettivi per accompagnare proprio la contrattazione e la continuo dialogo e sviluppo da parte delle relazioni industriali e delle esperienze potrebbero essere enti di tipo informativo o formativo specifico sul tema delle competenze verdi e questo non solo consentirebbe di migliorare l'aspetto in dimensione locale aspetto peraltro evidenziato in termini di tutela dallo stesso Green Deal in un'ottica di rivitalizzazione dei territori ma consentirebbe di recuperare anche le industrie chimiche di piccole dimensioni. Se le sfide dunque sono ormai chiare sia sul fronte dell'impatto che la transizione ecologica può avere sulla struttura e sulle dinamiche occupazionali sia sulla necessità di un rinnovamento dei modelli di relazioni industriali è evidente come i tradizionali strumenti di rappresentanti al perimetro d'azione debbano essere ampliati. Il diritto del lavoro e dunque le relazioni industriali devono regolare i mercati del lavoro odierni superando i confini esterni della fabbrica rileggendo dunque i mercati del lavoro in una nuova ottica del rapporto fra persone lavoro stesso come richiamato peraltro dai dagli interventi che mi hanno preceduto che va oltre il tradizionale rapporto di lavoro e in cui le relazioni industriali debbono saper incidere sulla struttura e sul funzionamento dei mercati stessi in un'ottica di dialogo fra le parti ed il coinvolgimento di sempre maggiori stakeholder a tutela dell'individuo richiamando nuovamente i miei colleghi che mi hanno preceduto. Grazie ringraziamo Sara Prosdocivi per questa bella presentazione che ha in parte ripreso anche gli spunti che avevo cercato di fornire nella presentazione iniziale ecco la circostanza che per esempio questi contratti nazionali energia e petrolio in particolare prevedano il contratto energia e petrolio in particolare preveda un sistema si chiama così credo di gestione integrato salute e sicurezza e ambiente no nel cui quadro sono contemplati anche programmi di formazione per i lavoratori conferma quella intersezione tra diritto dell'ambiente e normativa sulla salute e sicurezza eh nei luoghi di lavoro alla quale accennavo all'inizio eh questa pista di ricerca che riguarda poi il ruolo delle relazioni industriali anche della contrattazione collettiva eh lo dicevo anche io all'inizio nella definizione di percorsi eh di formazione collegata all'economia verde io credo che oggi sia ulteriormente sollecitata da alcune novità legislative e non solo anche dai programmi governativi a cui facevo riferimento all'inizio novità legislative se pensiamo per esempio alle alla novità del primo decreto rilancio no le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro collegate al fondo nuove competenze una specifica tipologia di contratto collettivo aziendale che può incorporare anzi che deve incorporare un progetto formativo no necessariamente l'intesa di rimodulazione e l'accesso al fondo nuove competenze eh deve accompagnarsi ad un progetto di formazione che può eh essere collegato appunto alla transizione ambientale poi a proposito di approccio locale dico soltanto questo in un'ottica di riviti rivitalizzazione dei territori lo stesso programma eh incentiva i fatti territoriali no ehm proprio al fine di eh inserire in questi patti eh interventi si legge sulle competenze dei lavoratori e qui sulla scia anche di esperienze passate già in atto di concertazione territoriale ehm che eh quindi accordi tra confederazioni sindacali ed enti locali che valorizzano la dimensione locale dello sviluppo sostenibile no accordi per esempio di bonifica di recupero di aree industriali quindi c'è questa idea insomma della contrattazione collettiva legata alla transizione ambientale al tema della sostenibilità ambientale eh anche eh anche eh secondo questo approccio locale e in un'ottica come dicevo di rivitalizzazione dei territori mi sembra molto interessante hm chiudo qui eh il mio commento alla presentazione di Sara Prosdoci mia invece passo la parola alla professoressa Ester Villa dell'Università di Bologna per eh la chiusura di questa sessione prego per tornare nella città nella quale ho studiato quindi ringrazio ringrazio anche per la bella eh iniziativa ringrazio anche i redattori che diciamo mi hanno preceduto per eh eh le belle relazioni che hanno fatto per gli spunti di riflessione che vengono tra l'altro da come era nell'anima del convegno da anime diverse nel senso che ovviamente abbiamo giusti lavoristi con una prospettiva più tradizionale e dall'altra la psicologia dell'organizzazione che per noi chiaramente è un modo diverso di vedere le cose di entrare nelle cose e parto da una riflessione un pochino magari più generale e poi vengo a trovare interloquire con le vostre relazioni per dare qualche spunto di riflessione e il punto di partenza è un pochino che se vogliamo la globalizzazione ha mostrato imprese globali che sono sempre più in grado di imporre la loro agenda economica sulla su quella politica degli stati ce l'ha ricordato recentemente Stiglitz in un bel volume che è recentemente uscito e ci ricorda anche che per ridurre la forbice delle diseguaglianze sociali che ne è derivata diventa centrale l'introduzione se vogliamo di adeguati contrappesi che limitino il potere di mercato di queste imprese di queste realtà spostandoci dal piano se vogliamo dell'impresa al piano individuale che interessa tutti quanti noi lo stesso lavoratore cittadino molto spesso si limita a ricercare dimensioni del consumo che è possibile soddisfare al minor prezzo possibile no lo facciamo tutti no senza preoccuparsi o senza dall'altra potersi preoccupare di quelle che sono le implicazioni sociali e anche ambientali di queste scelte chiaramente senza voler individuare relazioni di causa effetto che come dire sarebbero quanto mai semplicistiche questi insieme a una moltiplicità di altri fattori hanno determinato quella che qualcuno ha definito come una crisi ambientale da intendere però in senso molto ampio come crisi della gerarchia umane che nascono da condizioni di vulnerabilità delle comunità ne abbiamo sentito parlare oggi in vari interventi e da defici democratici che impediscono in qualche modo il pieno esercizio delle libertà di scelte e l'attenuazione da questo punto di vista delle diseguaglianze sociali dovrebbe quindi divenire una priorità per l'affermarsi una maggior sostenibilità sociale ed economica e qui richiamo le conclusioni di un recente saggio nelle quali si è invitati a tenere a mente che non è il mercato che deve guidare il giurista ma la direttiva è opposta è una direttiva come dire che dovrebbe potrebbe essere stesa se vogliamo anche agli stati anche ai singoli individui ovviamente in un mercato ben governato dovremo raggiungere un equilibrio tra la sostenibilità ambientale economica sociale l'abbiamo sentito varie volte questa mattina nella stagione della transizione ambientale con le soluzioni che proponiamo prospettate non possono prescindere da obiettivi di equità sociale e di tutela della occupazione e come abbiamo detto l'attività di impresa se vogliamo deve farsi un'attività di impresa sostenibile c'è la forza competitiva dovrebbe essere collegata alla capacità dell'impresa di creare valore condiviso con la collettività e di gestire in modo sostenibile i rapporti con gli ecosistemi sociali ed ambientali con cui l'impresa si trova fondamentalmente ad interagire e le tre relazioni per quanto siano ovviamente molto diverse per quello che dicevo prima tra di loro in realtà mi sembra che abbiano sicuramente un punto di contatto in un'idea virtuosa di impresa sostenibile e il dottor De Fai a cui parto vado per ordine di relazione evidenzia evidenzia che se si creasse un incentivo effettivo efficace ad utilizzare le convenzioni quadro si orienterebbero le imprese a gestire in modo più sostenibile l'attività con gli ecosistemi sociali che stanno intorno ovviamente all'impresa l'idea che l'inclusione di persone vulnerabili quali possono essere i disabili possa creare un vantaggio non solo per il disabile stesso che già sarebbe probabilmente un risultato auspicabile sarebbe già un risultato ottimo ma anche per la collettività chiaramente esterna. Nella relazione a dottoressa Dotto ci si è soffermato e ci si sofferma su un tema che mi ha visto assolutamente centrale che c'è quello della occupabilità sostenibile nel lungo periodo dei lavoratori con bassa professionalità che sono quei lavoratori vulnerabili che se vogliamo dovrebbero oggi rappresentare il nocciolo duro dei soggetti difesi dal sindacato ma che oggi anche il sindacato fa fatica fondamentalmente a tutelare e quindi se l'idea dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è quella di un obiettivo molto ambizioso che è quello di non lasciare nessuno indietro è chiaro che questa prospettiva mi sembra una prospettiva assolutamente centrale. E nell'ultima relazione si fa riferimento al fatto che per gestire in modo sostenibile la transizione ambientale bisogna valorizzare ruolo delle parti sociali da intendere una dimensione partecipativa. Parti sociali che sono chiamate un compito difficile perché ovviamente devono conciliare le soluzioni a ridotto impatto ambientale delle imprese sull'occupazione come dire quindi per evitare che si ripercuota negativamente sulla forza lavoro. A sensibilizzare dall'altra la forza lavoro sulla tematica ambientale prima la professore Salano parlava dei premi rivolte ai lavoratori per incentivarli a comportamenti ambientamente sostenibili dal punto di vista ambientale. E un altro punto di contatto che emerge da tutte e tre le relazioni è l'importanza del coinvolgimento di tutti gli attori in questo obiettivo cioè per conseguire un diverso e maggiore equilibrio fra sostenibilità economica sociale e ambientale è chiaro che tutti devono fare la loro parte nel senso anche facendo un passo indietro, lavoratori, sto parlando, sto parlando delle imprese, dei sindacati e degli stakeholder. E faccio qualche breve riflessione partendo sulle singole relazioni per provare a interloquire un pochino con quanto è stato detto. Ho sicuramente trovato interessante la metafora ecologica dalla quale è partito il dottor De Faico, ovvero l'idea di leggere il modello delle convenzioni accostandola al carbon offsetting. Cioè se questo è uno strumento che permette alle imprese di venire neutre in termini di carbonio le convenzioni potrebbero diventare uno strumento dall'altra di social offsetting. Quindi l'impresa tenuta ad occupare un soggetto vulnerabile o adempiere a venire sentito al proprio obbligo inserendoli in una cooperativa sociale tipo B e sostenendo quest'ultima tramite commesse di valore. L'idea è che questo crea soluzioni tra virgolette che apportano un vantaggio per tutti. Abbiamo visto il lavoratore in teoria vulnerabile che viene inserito in una realtà che dovrebbe garantire al meglio la sua soddisfazione tramite il lavoro, le cooperative sociali che dall'altra furiscono di commesse di lavoro che magari diversamente non avrebbero generando così reinvestimento sociale e chiaramente le stesse imprese gravate dall'obbligo che, come dire, avrebbero dei vantaggi che derivano dal fatto di non versicuramente sostenere i costi diretti della selezione del personale o che magari riducono anche le difficoltà di inserire il disabile in un'organizzazione che magari non potrebbe valorizzare adeguatamente questa risorsa umana. Le ragioni possono essere anche molto meno virtuose di quello ovviamente che sto dicendo. Nella misura in cui le convenzioni funzionassero si dice si realizzerebbe un migliore equilibrio fra sostenibilità sicuramente economica e sociale e anche ambientale da intendere chiaramente in senso ampio. Il primo punto sul quale diciamo, ho visto che il dottore Falcola ha riflettuto però che a me è venuto in mente, è chiaro che il rischio, come dire, che l'inserimento della cooperativa sociale però diventi un strumento di emarginazione sociale forse c'è e forse c'è e lo vediamo in relazione anche alle ragioni che lei ha indicato, fra quelle che spingono magari l'impresa a ricorrere a questo strumento che non sono sempre delle ragioni virtuose e che nascono dal fatto che purtroppo le persone vulnerabili o le persone disabili non sempre vengono viste esattamente come delle risorse per l'impresa e quindi purtroppo questo dovrebbe passare per un cambio forse di mentalità che è molto difficile da realizzare però probabilmente il rischio c'è. Il punto di caduta, forse la sua relazione è un punto molto ambizioso, l'idea del contratto di rete fra le imprese, io mi ero posto un altro punto di riflessione forse se le convenzioni quadro non possano diventare anche uno strumento per superare il sistema delle esenzioni, cioè ci sono alcune imprese magari che per la particolare attività esplotata non inseriscono fondamentalmente, non sono tenute a rispettare le quote d'obbligo perché hanno, svolgono un'attività che non si presta a questo tipo di attività lavorativa e da questo punto di vista forse il ricorso allo strumento della convenzione quadro potrebbe diventare uno strumento per farsi che queste imprese adempiano la quote d'obbligo ma inviando il disabile presso una cooperativa sociale. Un obiettivo forse meno ambizioso ma in qualche modo è sempre un obiettivo e dall'altra ragionare sul fatto se possa essere auspicabile eventualmente in che termini questo modello possa essere esportato anche al di fuori del collocamento di persone vulnerabili. Passo alla seconda relazione che si interroga sulla possibilità di realizzare una occupabilità sostenibile per i lavoratori scarsamente professionalizzati tramite la tecnica del job crafting. Relazione che chiaramente mi ha portato a leggere un po' di cose, quando ho letto job crafting ho detto che cos'è il job crafting, quindi sono andata un pochino a leggere in questi giorni qualche articolo sul job crafting per capire di che cosa stessimo un pochino parlando. Spero di avere ben inteso il tutto. L'idea è chiaramente che vi sia un po' occupabilità sostenibile se in tutta la vita lavorativa le persone sono in grado di lavorare senza soluzione di continuità conservando salute e benessere. E quindi da questo punto di vista i lavoratori devono essere messi nelle condizioni di impiegare al meglio le proprie abilità, abbiano sentito le proprie conoscenze, le proprie capacità. È chiaro che non sempre, si diceva prima, non sempre le organizzazioni sono in grado di garantire, come dire, un lavoro che sia davvero costruito sulle capacità, sulle peculiarità, sulle propensioni dell'individuo. E ciò produce risultati negativi in termini di creatività, in termini di anche risultati positivi che il lavoratore realizza sul lavoro e di sostenibilità poi del lavoro per l'individuo. Accresce, si è detto, stress e insoddisfazione anche il turnover tra i lavoratori. E per questo motivo, quindi alle tecniche tradizionali, se vogliamo, di riprogettazione del lavoro dall'alto, si è affiancato questo job crafting che, lo diceva anche prima la professoressa Lai, muove fondamentalmente dal basso. Quindi sono i lavoratori che plasmano il proprio lavoro a misura di sé tramite interventi di vario genere che fondamentalmente espletano, svolgono nella quotidianità. Si tratta di cambiamenti che quindi io realizzo spontaneamente per rendere più adatto il lavoro alle mie abilità, alle mie propensioni, al mio bagaglio professionale. Nella letteratura, ma sono stati, lei ha citati, si fanno tutta una serie di esempi. Il lavoratore che apporta dei mutamenti alle mansioni assegnate per adattarle maggiormente alle proprie propensioni o il lavoratore che cambia le priorità che gli vengono assegnate, facendo delle scelte. Cambia il rapporto con i colleghi, il modo di rapportarsi con i colleghi. Ed è chiaro che leggendo anche la sua presentazione, quello che mi è venuto in mente subito e immediato, il fatto che il job crafting sia qualcosa che si presta ad essere utilizzato ai lavoratori più professionalizzati, ai lavoratori che hanno una certa autonomia ovviamente nello svolgimento del lavoro. Io quando l'ho letto ho pensato a quando io vado a lavorare dal parco perché le idee ti vengono meglio in mezzo alla natura, magari piuttosto che chiuso nella tua stanza. È chiaro che ho trovato molto interessante la ricerca empirica per vedere se effettivamente il job crafting possa avere un ruolo nel disegnare percorsi di occupabilità sostenibile anche per i lavoratori con bassa professionalità. E qui ovviamente si dice importante è il supporto eventualmente dell'organizzazione nazionale anche nell'esperienza empirica, il supporto mi sembra che ci sia stato, ci sia stata un'interlocuzione, anche magari tramite il sostegno di iniziative formative che permettano ai lavoratori di comprendere che cos'è il job crafting e come può essere magari portato avanti nel miglior modo. È chiaro che qui mi sono posta a una prima questione, lei magari ha avuto davanti un'esperienza virtuosa, negli studi che ho fatto e recentemente mi sto occupando di povertà lavorativa ai lavoratori con bassa professionalità ci stanno chiaramente dentro. Le imprese non hanno un grandissimo interesse a molto spesso investire su lavoratori scarsamente professionalizzati ovviamente perché si tratta di lavoratori fungibili che l'impresa trova facilmente sul mercato e quindi da questo punto di vista non c'è tutto questo interesse, anche le iniziative formative faticano di più a rivolgersi nei confronti di questi lavoratori. Quindi questo secondo me è chiaramente un primo problema e se l'impresa non ha tutto questo interesse a magari investire in assenza di incentivi adeguati che potrebbero diciamo veicolare questa maggior utilizzo di questa tecnica, l'occupabilità sostenibile passa attraverso iniziative individuali che però questi lavoratori magari possono avere maggior difficoltà a portare avanti rispetto agli altri. E quindi cogliendo qualche sollecitazione che saranno nella precedente sessione mi chiedevo non ci potrebbe essere qualche ruolo delle parti sociali magari per favorire l'utilizzo di queste pratiche nei confronti dei lavoratori più vulnerabili. E passando dal punto di vista giuridico che mi ha un pochino più familiare diciamo mi sono fatta alcune domande in particolare mi sono chiesta fino a che punto il lavoratore possa modellare le proprie mansioni nel senso che tutta una serie di esempi che lei ha fatto sono degli esempi che fondamentalmente non sono particolarmente problematici dal punto di vista se vogliamo strettamente giuridico ma dall'altra è chiaro che il fatto che modifichi le priorità del lavoro che mi viene assegnato magari qualche problema lo pone il fatto che io mi dedichi solo ai rapporti con i colleghi che mi stanno simpatici qualche problema oggettivamente lo può porre. E quindi secondo me questa pratica che ha un interesse cioè siccome deve essere attentamente coniugata probabilmente con ciò che il lavoratore può fare e ciò che il lavoratore non può fare perché quello costituisce un inadempimento contrattuale. E questo profilo mi sembra più delicato addirittura per i lavoratori con bassa professionalità che non è che hanno quell'autonomia dei lavoratori più professionalizzati ma rispetto ai quali l'esecuzione della prestazione è molto spesso adempimento più stretto delle direttive ricevute. E l'ultima notazione riguarda l'interrelazione fra i colleghi perché prima di sentire la sua relazione io mi ero posta chiaramente il problema al fatto che un intervento dal basso che renda la mia prestazione migliore per me è chiaro che può avere delle ripercussioni sull'attività degli altri lavoratori. E giustamente io mi ero fatto un esempio molto semplice e molto basic. Io nell'esempio che lei ha fatto nelle slide riduco il ritmo del mio lavoro perché sono affaticato, sono stanco. E chiaro che questo può incidere a valle sulla prestazione degli altri lavoratori che magari in modo molto hanno qualche premio legato al loro rendimento, alla loro produttività. Quindi questo può avere le ripercussioni. Dall'altra lei ha messo in evidenza le, come dire, prospettive positive invece del fatto che questo job crafting ha favorito invece dei comportamenti collaborativi che lei ha detto essere un risultato che non ci si attendeva. E forse ha favorito i comportamenti collaborativi fra i lavoratori perché fra i lavoratori forse di bassa professionalità forse ha una minor competizione magari rispetto a quella che c'è fra lavoratori più altamente professionalizzati. È una riflessione che mi è venuta ascoltando la sua relazione. E un'osservazione, lei a un certo punto dice in questa azienda vengono praticate retribuzioni inferiori ma i lavoratori sono comunque magari soddisfatti perché c'è un ambiente di lavoro che è accogliente, che favorisce il loro benessere. Fare un po' di attenzione nel senso che soprattutto rispetto al sistema italiano i lavoratori scarsamente professionalizzati in termini economici non stanno tanto bene e quindi è chiaro che questo rischia di creare poi una scarsa sostenibilità magari da altri punti di vista nel senso. E passo all'ultima relazione, mi avvia le conclusioni che è invece incentrata sul ruolo, sullo sviluppo dei sistemi di relazioni industriali partecipativi in due settori nei quali la transizione ambientale è fondamentalmente più complessa e se vogliamo più costosa. Si riprende l'idea che le parti sociali possano favorire una transizione giusta nel senso di una transizione che favorisca tutela dell'occupazione da una parte e dall'altra che garantisca il mantenimento di produttività e competitività aziendale. La prima questione che pongo è per chi debba essere giusta questa transizione ambientale nel senso che il sindacato ha fatto tuttora in larga parte, fa della tutela di una fetta del lavoro, cioè del lavoro subordinato standard, l'oggetto di una comunque protezione privilegiata rispetto ad altre figure, lo stiamo imparando oggi rispetto ai lavoratori autonomi vulnerabili, anche rispetto ad altri interessi, qual è l'interesse dell'ambiente esterno. Si tratta di un profilo che a mio avviso va semplicemente tenuto a mente ragionando su queste tematiche. Nella relazione si sottolinea l'importanza di relazioni industriali maggiormente poi partecipativi, partecipative in cui le parti si devono impegnare e si impegnano in realtà a cercare soluzioni che siano condivise per l'ambiente ma che abbiano anche un impatto sociale sostenibile. E' chiaro che le prospettive che sono state evidenziate sono tutte desiderabili, sono tutti esempi virtuosi. E' chiaro che mi sembra però anche, è come dire, importante veramente qualche cosa che ci sta alle spalle, nel senso che sulle scelte molto spesso a monte, cioè sulle scelte organizzative che possono avere, come dire, diversi impatti sull'ambiente, sindacati, lavoratori e imprese molte volte sono stati dei grandi qualizzati, ma stati dei grandi qualizzati non in vista di una miglior tutela dell'ambiente ma in vista anche di tutela di interessi più di parte, nel senso che scelte sostenibili per l'ambiente hanno chiaramente ripercussioni in termini di costi per l'impresa e molto spesso si rischiano di scaricare sui lavoratori occupati. E quindi se l'obiettivo da perseguire è maggior sostenibilità non solo economico-sociale ma anche ambientale, a mio avviso, è anche su queste scelte a monte che si manifesta in modo più forte la tensione fra l'interesse all'ambiente salubre e la tutela dell'occupazione, e nelle quali probabilmente è più difficile trovare una, se vogliamo, quadratura del cerchio che davvero faccia entrare la preoccupazione per un ambiente salubre nelle preoccupazioni sindacali. E a questa questione ricollego poi una riflessione su quale possa essere il livello da questo punto della struttura sindacale più adatto a portare avanti scelte più attente all'ambiente esterno, che possono diventare dolorose chiaramente per i lavoratori. E qui mi avvio a concludere, non voglio dire che la transizione ambientale avrà necessariamente ripercussioni sempre solo negative sulla forza lavoro e sull'occupazione, non è questo che voglio dire, è chiaro che da un lato sicuramente questo creerà valore in termini di nuove opportunità imprenditoriali, nuove opportunità occupazionali, ma è chiaro che dall'altra determinerà anche e determina anche, sta determinando mutamenti che sono, come dire, idonee ad incidere sul mercato del lavoro, che si deve essere attrezzati ad affrontare. E qui sicuramente a livello aziendale sono state richiamate alcune esperienze sia forse più sensibili al territorio perché c'è una maggior vicinanza, ma a livello aziendale forse non c'è la capacità di avere quella visione d'insieme, quella visione dall'alto che secondo me si deve avere nel momento in cui si affrontano tematiche come quella dell'ambiente. Dall'altra a livello aziendale forse è più difficile anche fare scelte macro che incidano poi in modo magari piuttosto tragico sulla forza lavoro. E non a caso a me è venuta in mente un'esperienza leggendo poi la relazione della dottoressa Prosdocini sul patto per il lavoro e il clima della regione Emilia-Romagna, che è un patto che è stossiglato dalle confederazioni sindacali e dalle autorità pubbliche. Per concludere riprendo il punto al quale sono partita, per far sì che forse l'attuale fase di transizione sia più sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale, si devono certamente orientare i comportamenti di chi opera nel mercato verso equilibri diversi da quelli sicuramente alle quali ci siamo abituati fino ad oggi. Prima si parlava della transizione che implica regolazione. Mark Taylor in un libro intitolato al momento La complessità, in cui mi ricollego a quello che diceva stamattina il professor Salomone introducendo, scrive che uno dei sogni più antichi del genere umano è ridurre la complessità, la semplicità e chiude dicendo mi dispiace deludervi, ma le cose non sono mai semplici o non sono mai soltanto semplici. La complessità è una dimensione da cui non possiamo prescindere. Grazie. Grazie alla professoressa Ester Villa, la ringrazio per il confronto con le tre relazioni, per avere intessuto un bel filo fra le tre relazioni. Se non ci sono altre domande, interventi dalla sala, anche virtuale, proporrei di chiudere la nostra sessione, anche perché siamo un po' in ritardo, soltanto un po' rispetto alla tabella di marcia, dato che abbiamo anche iniziato con un quarto d'ora di ritardo. Però alle 14.30 si riprende, quindi ripeto, se non ci sono interventi o domande, chiuderei con la pausa pranzo. Molte grazie, molte grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. Quindi ci ritroviamo alle 14.30 in punto, 2.30, very sharp, and we will have to start back the afternoon. See you later and have a good lunch. Goodbye. Grazie. 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 Grazie.